è assolutamente grave che dei lavoratori, dei delegati sindacali in una situazione come questa vengono arrestati e ricordiamo che il motivo per cui la lotta a Granarolo da 9 mesi avanti è proprio il fatto che i 51 lavoratori del consorzio d'appalto per Granarolo sono stati licenziati per aver scioperato, questo licenziamento che gioca sulla questione dello sciopero toccare un diritto fondamentale come lo sciopero, sancito anche dalla Costituzione a qualcosa di gravissimo il fatto che dei delegati sindacali, altri lavoratori che appartengono a sindacati, solidali, studenti, centri sociali là fuori siano stati gasati con le bombolette spray, bombolette che non sappiamo ancora quello che può essere il contenuto ma una cosa assolutamente intollerabile che chi lotta per la dignità, chi lotta per la difesa del proprio reddito venga gasato là fuori, due arrestati che fanno parte di un'organizzazione sindacale come Sicobas due delegati sindacali per la mia generazione, vedere quelle scene lì di gas in faccia sparato a chi atterra e chi sta solamente facendo un caso, resistenza passiva rimanda a quelle immagini assolutamente intolerabili di Genova G8 gente gasata a terra assolutamente inerme, 7-8 poliziotti addosso a un delegato sindacale trascinato e buttato come un animale nel fosso, queste sono robe gravissime che succedono a Bologna che si venga licenziati per uno sciopero, che non si possa costruire dei momenti di solidarietà e di lotta per la difesa della dignità e per la difesa del reddito di chi da 9 mesi è là fuori e si arrivi agli arresti di delegati sindacali o altro, qua la cosa è che si vuole mettere in discussione la possibilità di organizzarsi sul posto di lavoro e la possibilità di potersi organizzare politicamente con tutti quelli che danno solidarietà e costruiscono solidarietà con i licenziati all'agromolo ma anche con tutti gli altri lavoratori della logistica bolognese e non solo questo è un qualcosa molto grave, come il laboratorio cresce fin dai primi giorni siamo stati al fianco degli operai della logistica e lotta, al fianco degli operai della Granarolo e continueremo questa battaglia per la dignità, per il reddito resistendo insieme agli operai in tutte quelle forme che si decideranno collettivamente, in tutte quelle forme di resistenza che i lavoratori stanno portando avanti in questi mesi di lotta, c'è un campeggio permanente, c'è un campeggio fuori della Granarolo, questo campeggio non se ne va, questo campeggio è il campeggio da cui si decideranno tutte e si costruiranno collettivamente insieme alle forme di lotta e si andrà avanti su questo percorso. L'altra cosa veramente grave è anche il fatto che ci siano stati veri e propri pestaggi da parte sia delle forze d'ordine con calci e pugni in faccia, il video che ha fatto vedere anche Marina parlano chiaro, qua ci sono anche i lavoratori che sono qua, il fatto che ci siano altri lavoratori che fanno parte della CTL e siano andati a picchiare dei facchini che stanno presidendo un cancello, noi saremo al fianco di questi lavoratori, saremo al fianco di questa lotta di resistenza per la dignità e per il reddito.